Se siete stufi delle vostre squadre e avete voglia di farvi la squadra dei vostri sogni, passate da venditi e crediti FIFA Foot, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Stark e oggi siamo su un episodio di questa nuova serie chiamata Road to Lewandowski. In poche parole in questa serie andrò a giocare Wager contro Amici e l'obiettivo è quello di raggiungere i 150.000 crediti, vincendo questi Wager, per comprarmi Lewandowski, visto che mi sto costruendo una Bundesliga. Ovviamente alla fine, se riuscirò a completare questa serie su Lewandowski, inizierò altri su Royce e altri giocatori per farmi questa Bundesliga, perché l'obiettivo mio è farmi una Super Bundesliga. Oggi andiamo a fare questo Wager, cominciamo subito pesante, Wager da 50.000 crediti contro un mio amico. Eccoci qua, l'avversario finalmente ha accettato il nostro invito. Oh merda la maglia della Juve, già lo odio, oh cazzo 85 di valutazione. Oh mio Dio no, Messi Record Breaker. Eh, Record Breaker, dove è uscito Messi Toti? Oh mio Dio. Mamma mia, Messi Toti. Aiuto. Perché ho cominciato con un Wager da 50.000? Mamma mia. Cominciamo subito male a Messi. Questo è un pericolo amico. Armato? Oh merda. E Messi, eccolo. Palla per moda. No, no con un fallo, fermalo senza fare falli, per favore. Urtato. Mettete davanti proprio lì. La crossa, anzi no, direttamente al partire. Partire spazza veloce. Bravo. Dai alzati Urtato, dobbiamo ripartire. Grande apertura per Matt Koss. Che corre sulla fascia. E' più veloce di casa adesso. La crossa. Urtato! Well, corri Powell. Corri Powell. Perché la prende di testa Messi? Anzi. Anzi, non l'ho presa io. Dai, Olave. Grande. Ah, ah, aiuto. Corre quadrato. Dai, Mitchell. Il mio ultimo baluardo. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Grande rimando. Mamma mia. Grande. Grande rimando. Fortissimo questo partire. Veramente tutta la squadra qua che forte. Partendo anche dai, come, anche i difensori. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Oh merda. No. No. Ma cosa fai? Che fai, Olave? Cosa fai? Cosa fai? Ma cosa cazzo fai? Ma come mi fanno incazzare quando fanno questi errori ma così stupidi? Cioè ci abbiamo regalato un gol. Sta uno e zero, sta, stiamo, è come se stiamo giocando da soli. E poi vai Messi, vai con Messi. Mamma mia, grande rimando. L'unico che sta giocando veramente bene. Pure la difesa ha fatto quella cagata. E poi rimando pure. Che, che è gufata. Pure rimando ora, sbaglia. Pure rimando. Pure rimando ora, sbaglia. E andiamo. I do not let the little leaves under my tiny buttons. E andiamo. Dai, dai. Non demoralizziamoci. Non è finita. Dai. Pomerutato. Pomerutato 2 a 2. Pomerutato 2 a 2. E andiamo. Urtato. Pareggiamo al 45esimo. Grande Urtato. Urtato. Il bomber Urtato. La tripletta di Urtato. La rimonte è costruita. 2 a 0, 3 a 2. 2 a 0, 3 a 2. Grande Urtato. Non importa. No, rigore inesistente. Che rigore è questo? Voglio vedere il rigore. Dove è il rigore? È il Messi che si butta sul mio portiere. Questi... Madonna mi... Non ci credo. Questi rigori... Il cucchiaio. Non ci credo. Ci umilia col cucchiaio. Lionel Messi. Regalare palla. Non possiamo regalare palla. Ma non è il fallo. Ho preso la palla. Madonna mi... Ma dov'è il fallo? Madonna mi... Questi falli inesistenti... Tra l'altro... Ma Urtato che sta facendo? È scandaloso. Invece di allargare le braccia. Corri. Eh, lui il portiere esce e prende palla. Il mio no. Il mio fa i rigori. Perché Adopafemi? Perché Adopafemi? Ma perché non la crossi di prima? Ma perché non la crossi di prima? Cazzo. Quindi ragazzi... Che dire? Adesso pagherò il mio avversario. Già siamo sotto di 50.000 crediti. Vi ricordo... Eh... Di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Se vi piace anche l'idea della serie. Di commentare magari con qualche suggerimento. Di condividere il video. Ma soprattutto di iscrivervi. Ovviamente in descrizione vi lascio sempre il link della pagina Facebook. E della pagina se volete comprare. Grazie. 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 Grazie.